buongiorno a tutti e buon caffè biblico la settimana scorsa vi ho confidato che è stata mia moglie Elena a farmi scoprire la gioia e la poesia del cibo eppure il cibo può essere fonte di grandi fastidi se abusato ebbene collegato al tema del cibo i primi cristiani ci ricordano che ci sono due approcci proprio al cibo ma che valgono anche per qualsiasi cosa a cui ci si approccia nella vita in generale il primo modo è l'appetito il secondo è l'apprezzamento ebbene per vedere la poesia la gioia del cibo loro dicevano bisogna elevarsi dal semplice appetito all'apprezzamento perché lo dicevano perché secondo loro l'appetito è una specie di modo animale di approcciarsi al cibo o più in generale di approcciarsi a tutto quello che ci capita attorno a noi no le cose attorno a noi è un modo l'appetito che si concentra su di sé sulla mi concentro sulla mia fame mi concentro sul mio desiderio sui miei piaceri sui miei bisogni questo fa l'appetito mentre l'apprezzamento sostenevano è un modo di vedere meno animale e più umano dicevano più di simile a una creatura che è stata fatta a immagine di dio che quindi dimentica il sé e presta invece attenzione a qualcosa di amato qualcosa di buono di visto come giusto visto come gradevole il cibo le persone le relazioni ogni cosa l'arte ogni cosa l'appetito in qualche modo ingoia dicevano l'apprezzamento invece gusta i cristiani della prima chiesa ne parlavano perché il cibo era ancora percepito come un dono di dio un dono del cielo di certo non ne avevano così tanto a disposizione come ne abbiamo oggi in italia tanto che possiamo buttarlo anche via quindi per loro il cibo andava apprezzato andava gustato davanti a dio come un dono suo e anche per questo si crede insomma che il nostro signore gesù nella quando ci insegna proprio a pregare nella famosa preghiera del padre nostro dice a un certo punto dacci oggi il nostro pane quotidiano perché il pane e il cibo hanno una valenza e hanno una valenza sia fisica che spirituale ma vanno affrontati in un modo che non è semplice appetito ma che è proprio apprezzamento di quello che si ha dunque davanti al prossimo pranzo in famiglia o al ristorante o al semplice diciamo spuntino fatto lì sul tavolo al lavoro o in fabbrica proviamo a ricordarci di questo antico insegnamento apprezziamolo il cibo non ingoiamolo soltanto e consideriamolo un dono di dio da non sprecare e con cui non ingozzarci e basta penso sia a un insegnamento piuttosto saggio dio vi benedica grazie a tutti